Ci alziamo in piedi e accogliamo i sacerdoti celebranti con il canto d'ingresso. Te lo diamo Trinità, nostro Dio ti adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo. Te lo diamo Trinità per l'immensa tua bontà, te lo diamo Trinità per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione con Dio e con i fratelli. Confesso a Dio Onipotente a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronda come una sposa adorna per il suo sposo. Udi allora una voce potente, che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Perché le cose di prima sono passate, e colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Grazie, Signor Dio. Salmo responsoriale. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo. Alleluia! Alleluia! Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode, da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Signore. Alleluia! Alleluia! Il Signore sia con voi. E con voi, Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Glorio a te, Signore. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre, Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Glorie a te, o Cristo. La pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato ci riporta al cuore della nostra devozione mariana. Una pagina che vuole subito chiarire qual è il ruolo di Maria nella vita di ciascuno di noi, nella vita della Chiesa. Un ruolo che possiamo facilmente, comodamente sintetizzare con una parola. Su Maria si è scritto tantissimo, anche se i Vangeli non ci riportano, poi chissà quanti, tante pagine, sono poche. Però poi nel corso della Chiesa si è sempre, nel corso della storia si è sempre scritto. C'è un manuale di mariologia che sono 1300 e passa pagine. Ma se non mettiamo al centro la parola giusta, si rischia forse anche di fuoriuscire dai binari. E la parola con cui noi possiamo definire Maria, è quella con cui ce l'ha consegnata Gesù nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato sotto la croce, è mamma. Maria è mamma. E quando dico mamma vuol dire che Maria non è né nonna né padrona. La nonna, almeno io purtroppo quando ero piccolino facevo così, la nonna è quella signora che se ne sta bella lontana, che ogni tanto vai a visitare, soprattutto la vai a cercare, la vai a visitare quando hai bisogno di qualcosa. Ti metti là, le fai tutti i tuoi pianti, tutte le tue richieste. Quando hai ottenuto quello che devi ottenere, te ne vai e ci si rivede alla prossima puntata. La padrona invece è colei con cui in qualche modo si deve contrattare, colei con cui dobbiamo sempre arrivare a un accordo. Allora io ti faccio questo, tu mi devi questo e lavoriamo sempre nella logica del do ut des o nella logica del fare le cose per paura. Maria non è né nonna e non è nemmeno padrona. Maria è mamma. È mamma perché Maria ci dice il Vangelo sta, è presente sempre nella nostra vita. Maria è lì ad accoglierci quando abbiamo sbagliato, è lì a farci sentire sempre a casa nostra. Io ieri sera, dopo nemmeno due ore che ero qui a Fatima per la prima volta, entrando in chiesa, entrando qui durante la preghiera, la recita del rosario, ho sentito subito di essere a casa. E a casa non solo perché abbiamo una bella accoglienza, ma a casa perché mi sento accolto da Maria, che è lì pronta, come dicevo, ad essere vicino alle nostre croci per incoraggiarci, ad essere vicino al nostro cammino per guidarci, anche qualche volta forse per correggerci, come fa una buona mamma che fa una bella tiratina d'orecchie quando usciamo fuori dai binari, ma sempre lì a darci il suo amore e la sua grazia. E allora quest'oggi vogliamo davvero chiedere al Signore di imparare a prenderla, non nella nostra casa, non tra le cose più belle che abbiamo, ma fare davvero di lei il modello del nostro agire, del nostro camminare da discepoli di Cristo, sapendo che abbiamo sempre una mamma che ci sosterrà in questo cammino verso la piena conformazione a Cristo, verso la nostra adessione al Vangelo e alla parola di salvezza. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo Dio, nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo figlio. Diciamo insieme, ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di venere a penitenza e preghiera, collaborano generosamente per il rinnovamento del mondo, l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per quanti esercitano un ministero della Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino, animano e annunciano la parola di Dio, con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace, e collaborano per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché, in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrano l'amicizia e nella contemplazione della croce, la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per questa assemblea e le nostre famiglie, affinché, per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo, li incontrano. I peccatori si convertono e i giovani si entusiasmino. Per il Vangelo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo. Per intercessione di Maria, madre del tuo figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amén. Guarda questa offerta, guarda a noi, Signore. Tutto noi ti offriamo per unirci a te. Nella tua messa, la nostra messa, Nella tua vita, la nostra vita. Nella tua messa, la nostra messa, Nella tua vita, la nostra vita. che possiamo offriamo per te, nostro creatore. Ecco il nostro niente. Ecco il nostro niente, prendi lo Signore. Nella tua messa, la nostra messa, Nella tua messa, la nostra messa, la nostra messa, Nella tua vita, la nostra vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore diceva alle Tue mani questo suo figlio. A tale gloria del suo nome, per il mio amore, per il mio amore, per il mio amore, per il mio amore, per il mio amore. Il Signore diceva alle Tue mani questo figlio, per il mio amore, per il mio amore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rengiamo grazie al Signore, il nostro Dio. E' veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'Angelo accolse nel cuore immacolato il tuo verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la Patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai Santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria. Oh, Hosanna nell'alto dei Cieli, benedetto Codui che viene nel nome del Signore. Oh, Hosanna nell'alto dei Cieli. Veramente Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché c'è resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa diocesi Sosè, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono adormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna e insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo Spirito. Scambiatevi un segno di pace. Grazie. Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Dona a noi Dona a noi Dona a noi Dona a noi Ecco l'agnello di Dio Ecco colui che toglie i peccati del mondo Beati gli invitati Alla cena dell'agnello O Signore Non sono degno di partecipare Ma di soltanto La parola Io sarò salvato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tu vorrai, non avrò paura, sai, se tu sei con me, io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i suoi, fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia pace, la mia libertà, niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà, so che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. Io salvatore, noi speriamo in te, spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. Tu da mille strade ci raduni in unità e per mille strade poi dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. Preghiamo. Concedio, Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi, che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onipotente, che Padre, Figlio e Spirito Santo glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria, a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. In mano un rosario portava Maria, che addita ai fedeli del cielo la via. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Grazie.